Questa doppia testimonianza, da un lato il video che lei stesso confeziona e dall'altra anche il racconto di questa terapia, dei farmaci che aveva preso e infine l'accenno a questo luogo. È curioso? C'è un filo che può unire le cose? C'è un quadro clinico che tiene in piedi tutto questo. Immagino che gli inquirenti avranno parlato con gli psichiatri di Barcellona, Pozzo Rigotto, dove la signora è stata in cura. È un servizio pubblico. È stata una persona che non può essere che sia stato uno psichiatra ad avere prescritto questi farmaci. Torno a dire che sono sconcertato dall'idea che in una famiglia con un bambino piccolo, con una signora così sconvolta, e il documentario del 3 di luglio mantiene questo sospetto, che la si lascia andare chissà dove. Vederla ragionare così ci fa piacere. Io le farei vedere tutto intero, non è lunghissimo. E poi lei finisce questa analisi perché questo documento a cui lei fa riferimento effettivamente è interessante. Buongiorno a tutti. Stamattina mi sono alzata e ho scritto qualcosa. E avevo in mente di scendere in studio e fare qualcosa, impostare qualcosa per fare un riepilogo di tutte le mie emozioni, di quello che vorrei dire a mio figlio, ora che ha quattro anni e che inizia a capire un pochettino di cose in più rispetto a qualche mese fa e qualche anno fa. Ho detto a Daniele che lo avrei raggiunto, abbiamo fatto colazione. Io e Gioele siamo scesi cinque minuti fa, prima di collegarci con una diretta, volevo fare questo video per poi riprenderlo e utilizzarlo in un video che vorrei fare con una nuova traccia, che è un'artstyle che abbiamo in testa di fare. Sono scesa, c'era qui Daniele, c'era qualche nota che girava nel piano roll e allora gli ho detto di tenere solo qualche nota dell'inizio perché appunto vorrei leggervi questa cosa qua. Prego maestro, aspetta, scusate, vai. Buongiorno al mio dolce bambino, buongiorno a tutti i nostri amici, buongiorno a te amore, buongiorno a te caro e amato studio. Prima di tutto, buongiorno a te Dio, Padre nostro, che come ho spiegato al mio piccolo è colui che per amore e passione è morto per salvarci tutti. Ci sono comandamenti nella vita e il nostro Signore ci insegna ad amarci, rispettandoci a vicenda e rispettando alcune regole quotidiane. L'amore, la passione, prima di tutto, per ogni cosa. Ci sono momenti nella vita in cui ci smarriamo, momenti in cui abbiamo bisogno di stare un po' soli. La solitudine è anche un modo per crescere e meditare, fa funzionare il nostro cervello. Ecco, questo è un vinile, un disco tondo di plastica con un'etichetta colorata al suo interno. È un mezzo di comunicazione, di condivisione con chi abbiamo intorno. Tante persone, iniziando con questo oggetto rotondo, hanno poi costruito un impero importante, lavorando e dando lavoro a tanti, trasmettendo amore, emozioni, passione, divertimento, sentimento. All'inizio non esisteva il disc jockey, perché quando andava in discoteca c'era una console. È lo stesso proprietario che aveva i dischi negli appositi cubi incassati. Poi a poco a poco, gratuitamente, qualcuno si offrì ad esporsi davanti al pubblico ed esprimere se stesso. Da lì, poi diventò pian piano un mestiere e quindi anche retribuito. Con questo vorrei spiegare al mio bambino l'inizio del nostro mestiere, partendo proprio da questo, da questo oggetto di plastica, che poi alla fine, come ho detto, è un oggetto importante. Professore Crepe, scusi, abbiamo mandato l'integrale, però veramente vorrei che lei mi aiutasse a capire e poi sentire anche De Giovanni. Colpisce in questo video come questa donna sia, pochi giorni prima di questa catastrofe, totalmente concentrata sul suo lavoro, sulla vita, sulla positività della trasmissione del messaggio, del racconto. Non è una madre che sembra sull'orlo di un tracollo. Invece lei avrebbe notato qualcosa, qualche segno, qualche campanello di allarme? No, non particolarmente. Forse ci sono dei momenti di... Però se entriamo dentro un discorso un po' troppo tecnico di rallentamento, che ho notato, per cui mi piacerebbe sapere che tipo di farmaci prendeva, perché ho qualche dubbio che siano solo degli antidepressivi. Però qui lo dico, qui lo nego, nel senso che ovviamente non ho nessuna controprova, però così voi me lo chiedete e io vi dico il mio parere basato su queste poche minuti di filmato. De Giovanni e Bruzzone. Mi sembra un po' realizzata. E poi questa ostentazione mistica, che anche lì bisognerebbe capire. Frequentava un centro religioso, era in collegamento con un religioso in particolare. Queste sono tutte nozioni che io personalmente non conosco e che sarebbero molto utili da sapere. In ogni caso, torno a dire, una signora che è seguita da un servizio psichiatrico, più psicofarmaci, più terapie, eccetera, eccetera, non può, non deve essere lasciata da sola con un bambino. Punto e a capo. E ne ho viste troppe... De Giovanni e Bruzzone che siamo in chiusura, ricordandovi che la foto... ...un signore pubblica che, siccome la depressione è una malattia molto diffusa, bisogna avere degli accorgimenti. Non è l'odio nei confronti dei depressi, naturalmente, per aiutarli a non farsi del male e a non fare del male. Perché dobbiamo chiudere.